Sono stati premiati in sala giunta dall'assessore allo sport Ciro Borriello i giovani atleti napoletani che si sono distinti in recenti manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Dal pugilato al tiro con l'arco, al nuoto e pallannuoto e 400 ostacoli e staffetta, i giovani campioni accompagnati dagli allenatori hanno ricevuto una medaglia e la targa del comune in segno di riconoscimento per i traguardi raggiunti. Era il minimo che potessimo fare per chi ci mette tutti i giorni l'impegno quotidiano, sono gli atleti di Napoli, sono anche però gli atleti del futuro, questa è la cosa bella, questo è il messaggio che dobbiamo veicolare, tutti gli sport, soprattutto quelli minori, questo è il segnale bello che dobbiamo dare. Dobbiamo essere più vicini a questi ragazzi, dobbiamo farlo in tutte le articolazioni, sia con l'impiantistica, ma soprattutto dobbiamo dare a loro la forza e soprattutto dare l'esempio.